Cioè Salvini sta andando in televisione, la Meloni sta andando in televisione a dire che i lavoratori avranno 100 euro in più in busta paga. Non è assolutamente vero. Guardate, se ho ragione io, andate a protestare da Salvini. Se ha ragione lui, venite a me e mi portate via. Noi vogliamo rilanciare fortemente il lavoro, un lavoro di qualità e ben pagato. Oggi abbiamo circa 8 milioni di lavoratori che aspettano il rinnovo del contratto del lavoro, di cui 4 milioni sono dell'amministrazione pubblica e la decontribuzione degli aumenti economici previsti dal rinnovo contrattuale avrebbe spinto i rinnovi stessi e quindi i soldi in busta paga. Avevano detto che avrebbero superato la Fornero. Beh, sono riuscito a peggiorarla. Andremo in pensione più tardi riscosendo meno. In Toscana c'è circa 191 mila lavoratori subordinati che guadagnano meno di 1000 euro netti al mese. Prima dell'alluvione questo governo aveva dimezzato le risorse per prevenire il dissesto idrogeologico e per aiutare gli alluvionati. Noi nello sciopero vogliamo mettere in evidenza la situazione che sta vivendo la popolazione toscana, in parte a modo quella della Piana che ha subito quest'alluvione. Su questo stiamo lavorando con i nostri servizi. Noi attendiamo che il commissario che è presente della regione ci convochi. Lui dovrà convocare un tavolo con tutte le associazioni sindacali più rappresentative e con le associazioni relatoriali nella quale potremmo per esempio concordare che si può dare un'ora di lavoro per farli confluire nel fondo regionale d'aiuto agli alluvionati. Grazie.